Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotess. Ho creato una nuova poesia dal titolo Aprite il cuore, spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Dobbiamo essere buoni di cuore e aiutare chi ha bisogno, perché un gesto d'amore può essere molto per chi non ha niente. E riempire d'orgoglio la loro triste posizione. Aprire il cuore alla vita, perché poi un giorno se ci troveremo noi in difficoltà, vorremmo un gesto forte per aiutarci e lo vorremmo dagli altri. Quindi se vogliamo dei gesti forti dagli altri, dobbiamo anche essere bravi a donarli per cercare quel bel e intenso stile sociale di carità fraterna. Vi leggo adesso la poesia dal titolo Aprite il cuore. Siate buoni di cuore, aiutate chi ha bisogno di un vostro gesto d'amore che riempia d'orgoglio. Aprite il cuore alla vita, annulate tutti gli egoismi e con la gioia grandiosa siate fedeli ai sacri onori virtuosi. Aprite il cuore alla vita, alla speranza ricca di fede, alla carità forte ed inaudita per chi ancora all'amore non crede. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.